I primi abitanti del luogo furono pochi monaci benedettini che nel 1361 vi fondarono un monastero dedicato a San Girolamo. Quello che un tempo fu l'orto dei monaci è oggi il solo giardino all'italiana in Liguria che si affaccia sul mare. Le siepi di bosso, abilmente potate a formare disegni geometrici secondo i migliori canoni dell'arte topiaria, circondano la fontana in marmo del 1600, raffigurante un putto. Le piante addossate ai muri o disposte lungo le bordure sono parte integrante del disegno del giardino monumentale, come pure le vigne degli antichi pergolati. Nelle aiuole una quantità di specie floreali diverse per garantire la fioritura in tutti i mesi dell'anno si alterna a piante dal fogliame colorato. Tra le specie le coloratissime strelizie, le piante di agrumi, l'esotica bucanvilla, la singolare eritrina e ancora alberi di pino, un secolare albero del pepe rosa e i rarissimi capperi rosa. La silenziosa corte ombreggiata da glicine plurisecolare e il pergolato del giardino superiore, i cui pilastri sono ricoperti da rincospermo o falso gelsomino, regalano suggestive profumate, seppure effimere, fioriture. La posizione strategica lo rende il luogo ideale per celebrare eventi esclusivi o incontri che semplicemente impongano riservatezza o raccoglimento e gli ospiti hanno il privilegio di scegliere anche se fermarsi in una delle camere del convento, nell'antica Torre Saracena o se isolarsi nella suite che un tempo ospitò Francesco I, re di Francia.